bella a tutti i ragazzi sono bino e io sono sandra bentornati finalmente scusate per il ritardo ma abbiamo avuto dei problemi con il caricamento del video poi sono stato male avevo la tosta e la freddore un po di femmina un po di influenza sì scusate e niente in questo video abbiamo deciso di farci conoscere meglio da voi facendoci delle domande io qua siamo scritte in particolare un boyfriend tag così cominciamo ci sono quante domande 20 domande dove ci siamo conosciuti ci siamo conosciuti a un ballo di terza media a nizza al forbuario dove siamo andati al nostro primo appuntamento allora siamo andati a mangiare all'alcano io pensavo fossimo solo io e invece l'hai venuta con 600 sue amiche e io un amico ciao luca ma quanto tempo siamo fidanzati tre tre mesi no otto mesi i 14 siamo messi insieme prima del fidanzamento per quanto tempo vi siete frequentati dal 2015 fino al 2018 però niente di che ci sono stato che avevamo poi no poi no qual è stata la tua prima impressione su di me io l'ho vista era l'unica ragazza si vedeva di più al ballo perché aveva un vestito super bello viola che attirava l'attenzione di tutti invece non mi ricordo era ben vestito eh eri ben vestito da bliccio pantaloni scarpe poi capelli eh si che adesso non hai nemmeno o meno per colpa sua ho qualche strana ossessione tu no cioè prima aveva l'ossessione dei capelli poi averli riparsi tagliati a zero quasi esatto non ce l'ho più invece lei si mangia ogni estata che beve si morde la canuccia per sei anni e vi la stacco e la riprende ma non è un'ossessione quale è stato il nostro primo viaggio questo è stato in sicilia l'aereo adesso era la sua prima volta abbiamo fatto una vacanza extra extra ciao zio ciao zia ciao zio ciao zia allora qual è la prima cosa che hai invitato di me il vestito il vestito qual è il nostro ristorante preferito non è un ristorante andiamo quasi sempre al kebab è vero che bava si oppure al me col sushi sushi non siamo ancora insieme no a me l'ha fatto assaggiare Ivan ciao Ivan Chen pratico qualche sport praticavo tennis, nuoto tennis, nuoto e adesso voglio cominciare di nuovo palestra che la facciamo già con lei e io praticavo ginnastica artistica c'è un cibo che non mi piace a te il pesce a te a me non risparmio a me tutto non mi piacevano i cetrioli me l'hai fatto il piacere a lei invece è un po' schifo schifo normale non è che che cosa ordino da bere solitamente? su te il limone oppure? oppure oppure sprite e io? acqua naturale forever allora se potessi che cosa mangerai tutti i giorni? io no devi dire la mia la tua la me? tu il salame e io si e tu invece cetrioli o lasagne sempre mi parla di sempre ok c'è qualcosa che faccio che tu vorresti che io non facessi? no a me? no anche a me ok su qual argomento li tagliamo di più? su cosa? io entro in casa arrivo da scuola entro in casa ciao hai visto con chi sei stato oggi? c'erano ragazze io lo so proprio cento per cento se non di più anch'io però lei proprio vabbè dai mi sopportare chi è il più geloso dei due? no figliati è vero io se potessi vabbè questo l'abbiamo già fatto colore preferito il suo è lilla invece il mio? non ne hai uno in particolare avevo adesso non ho un colore preferito da quando si è preso questa fetta si è innamorato del giallo ieri ho preso sei innamorato del giallo si vi siete mai fatti sorprese? o lui o me si io o lui no me la farà prima poi si io la sorpresa che gli ho fatto è al suo compleanno una festa di compleanno una festa di compleanno e poi il signorino qua eccolo qui gli ho portato a casa lui che era piccolo così che stava in una mano adesso è cresciuto a quattro mesi a quattro mesi sì con Jack Russell si chiama Connor forse ho preso più bella insieme a sua mamma esatto stessi quali le abbiamo già detto esatto e basta basta ragazzi se volete qualche altra informazione scrivetecelo se volete facciamo degli scherzi ieri ci hanno detto tipo Alessandro Vitale o Marco ciao Marco ciao Ale di fare tipo quanto costa il tuo outfit a Nizza in giro a Nizza vediamo adesso scrivetecelo comunque lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi bella a tutti pace e amore